Una serata di grande trambusto ma anche di notevoli disagi per voi operatori del settore dell'accoglienza Beh sì, devo essere sincero è stato tutto molto in provviso anche perché noi non ce l'aspettavamo diciamo che sembrava tutto molto al sicuro anche se era borderline al limite però a mezzanotte arrivare due camionette dei carabinieri, la polizia, l'esercito dice dobbiamo evacuare, dobbiamo evacuare Dice ma scherzate, i clienti sono da poco andati in camera, erano tutti in questa stanza tranquilli anche perché la lontananza non è due chilometri, mi sembrava che è un po' esagerato Ah dico se non li chiamo? Dice no, se lei non li chiama andiamo porta per porta e dobbiamo evacuare Quindi così hanno proceduto, siete stati costretti a farli andare via C'è anche un risvolto economico in tutto questo? Certo, prima di tutti disagio perché comunque dopo magari qualcuno si altera pure C'è maggior parte no, ma c'era qualche signore, insomma cominciamo a avere un po' di tensione e poi dove andiamo, cosa facciamo? Ah ma dice dobbiamo pagare la camera ma noi siamo stati soltanto due ore, abbiamo solo appoggiato la schiena dice come è possibile, poi devo andare dall'altra parte, l'azienda non mi esercisce è tutta una serie di disagi che comunque va bene, prima di tutto è la sicurezza, è giusto che ci sia però insomma anche perché sulla via, la via dove siamo noi, sia Viale Puccini cioè Viale Cairole e Giacomo Puccini, non ho visto una persona uscire dalle case hanno fatto elogiare soltanto i due alberghi per carità, per quanto sia tutto giusto, però qui ci sono delle conseguenze ci sono delle spese, dipendenti che lavorano, clienti arrabbiati poi anche chi è che ha prodotto per più giorni, ha preso, è scappato quindi non è che l'hai perso, è perso, non è che ritorna anche se alcuni sono clienti fissi, insomma mi sembrava ma io dico se questa cosa si sapeva già nel pomeriggio cioè mi sono informato, potevano darci anche un colpo di telefono guardate, cioè non prendete gente oppure perlomeno state attenti perché comunque è una zona a rischio cioè tutta cosa si è saputo tutto all'ultimo momento Di quante persone parliamo? Perché due alberghi, due hotel Due alberghi, sono 45 persone Ciao